bene ragazzi siamo praticamente a posto perché è arrivato anche black leaf black leaf fingerboard o devo capire da che parte a pulire questo pacchetto proviamo qui perché ovviamente ci sono anche le decks in vendita non solo quelle del contest perché le avevo finite quelle da vendere e ringrazio simone per essere stato così fiducioso di aver me le mandate soli ma che lo pagassi comunque appena mi manda i dati lo pago parla parla papà qui c'è una letteronza per me che poi mi andrò a leggere io amo il juli bol perché poi mi metto io lo schiscio tutto Allora Oh il neotape Della Blackleaf Allora 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 decks Queste secondo me Sono le mie 1, 2, 3, 4 This for 100 Hope you enjoy Ok Questa la dobbiamo ad Andrea Coral Carvale Questa è la mia 1, 2, 3, 4, 5 decks per il contest E anche le spillette Veramente veramente carine 1, 2, 3, 4 Durable Inquadra dentro Please There is nothing Ok Allora adesso passo a Mettere via le decks Eccetera Eccetera Questa una me la tengo io E le altre Le distribuirò Tra i tre mini Del contest Ringrazio ancora Simone E Ci vediamo Al prossimo contest Al quale vieni Mi dispiace che non sei venuto Però d'altronde Se il lavoro chiama Bisogna starci dietro È inutile star lì E Niente ancora Grazie 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 a tutti Grazie 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 Non ci ho detto grazie Grazie Ciao